Non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dolosa, per l'incendio che ieri sera, poco dopo le 22.30, ha investito e distrutto le palme da ombreggio, stipate a ridosso del Garden Lido, lo storico stabilimento balneare della zona nord di Tortoreto. Il materiale da spiaggia, terminata la stagione estiva, era stato sistemato e depositato all'esterno della struttura balneare, in attesa poi di essere trasportato altrove. Le fiamme si sono subito alimentate, considerato anche il materiale facilmente infiammabile, e hanno divorato le palme andate completamente distrutte. Il fuoco ha lambito pericolosamente anche lo stesso chalet, dove in funzione è un ristorante. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Nereto e Roseto degli Abruzzi ha consentito di domare l'incendio in debbi brevi ed evitare danni ulteriori anche alle altre strutture del Garden e del vicino Manacara. Le fiamme, visibili anche a parecchi chilometri di distanza, hanno richiamato una folla di curiosi, che hanno seguito da vicino le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Albadriatica, che sono in attesa della relazione dei vigili del fuoco. I danni sono comunque significativi, perché le grandi palme da ombreggio, in uso alla struttura balneare, sono andate completamente carbonizzate.